quel 9 allora eccoci qua questa è la seconda parte del gioco ho interrotto che abbiamo fatto tanto prima ecco dai un'occhiata ah si stiamo facendo uno special dedicato a delta 62 perché abbiamo fatto che cosa hai detto è lo speciale SS sì perché abbiamo prima non perché tifiamo le guardie di Hitler ma perché stiamo perché c'è da celebrare Scorch delta 62 e poi c'è da celebrare Satana perché lui ha raggiunto il 666 sì però guarda che forse celebrare non è il termine giusto diciamo magari no vabbè se no ci prendo per satanisti sai come sei come ci vuole per satanisti questo video di delta non vuole in alcun modo incitare le persone al satanismo assolutamente no ci sono modi molto più belli di ammazzare altre persone invece di avere tempo in questi rituali pagani esatto esatto non è che siamo metallari un pochino un pochino io vado a dormire con gli agro un mede nei e e e e e e e vado a dormire direttamente quella è la mia la mia lina nana sarebbe Sandman di Metallica basta sarebbe Sandman di Metallica entro Sandman la mamma la mia lina nana ma grazie al cazzo grazie al cazzo scusate non si dico parolacce se lina nana non ho questo droide come lo distruggerò no perché mi annuncerò un bel oratore no ma voi ve la ricordate la l'intro di Sandman por mamma mia non finiva più due due minuti di soundtrack lungo tra dormenti e la mia nana è palesiana nana stiamo per cominciare la partita e io devo togliere la webcam perché giustamente se non si vede nulla bene generale no cosa che bella è la stessa scena tre cannoniere noi siamo piccole cannoniere mai nessun ciabatterà tra la 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 l'amore non sto per me trattata ma ma cosa che mi è andata addosso gente che esplosa male vabbè si ho notato gente che è delita in chi è tutta dove stai andando grius io seguo te eh non lo so non conosco bene feluzione come non conosci bene feluzione eh no è andato felice è andato felice la jazz d'atterraggio delle cannoniere su A eh difatti difatti mi piacciono queste cannoniere le LATC andiamo a vederle bene esatto ah ma tu sei un cosa sei un ufficiale della 501esima invece sei un soldato del 212esimo io invece sono sono un costino si esatto un ufficiale un ufficiale a se la saltassimo ho il chico giuda aia aiuta 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 mi ha sparatati tasche a saltassimo è che mi dico così a caso vediamo non ho buona idea smotto è una sparata pista ed è un droide pilota ah ah un droide è totato col cacchio si chiama un npg un droide pilota un droide pilota un droide pilota è un droide pilota è controllato è un droide un droide pilota esatto comunque c'è un problema di connessione non so se ma l'ora che una scuola la vista male chi è sta aia ma c'è un pastor di sua colline che camper si l'ho preso no che palle dimmi che ancora in W ah ma c'è che cosa al desto è che toglievo la chat e che occupa troppo spazio la chat è brutta sta chat benissimo ma come ho fatto fame che sei già preso la tt eh hai visto? era qua però una tt inutile no io offro poco di copertura scusate l'artiglieria che cosa fa? io sono l'artiglieria guarda ho appena ucciso un cecchino è appena morto un droide davanti a me ah ok stava talmente fermo che sembra che era due cecchini tre cecchini ma copertura quattro cecchini dovreste provare a prendere il c visto che posso darvi un buon fuoco di copertura anche qui è arrivato però questo è molto male ho visto perché è successo è esplosa la granata la bomba d'antietro la bombola la bombola il gas attenzione ci sono tuttiva non circondando dietro di lato non non sei a voi prima di ragionare cioè sei stato ammazzato stufrato e dopo che ti ho detto dove si trova grazie eh e sono molto male oh quella città il mercato ah ah non riesco a farlo non è in realtà se devi spottare 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 qui lo sto io ok eccolo e ci sono fatto uscire dalla casa è un giocattolo vabbè a luca non piacerà l'unità che stai usando vabbè io sono un pianto che fu almeno io lo vedo pianto quello qui non è quello che vedrò io no esatto non è quello che vedrai tu no proprio no cioè ci sono probabilmente ci sono quante eh trenta diverse classi di cloni e skin di cloni diversi ce n'è solo una che tu non devi prendere e probabilmente è proprio quella che non dovevi prendere è proprio lei esatto non è vero guarda male sono così bello con la misura verde con l'armatura bianca una ah se lo porto male non è non è armatura una misura bianca armatura verde siamo sicuri si siamo sicurissimi e provo a darti provo a darti supporto ma sei ancora sulla ttn? si guarda sto guarda sto uccidendo dartmole quello aspetta che sta arrivando io divisioni panzer in arrivo aspetta che ci sono anch'io dai fammi salire in qualche modo e venga venga io sto fermo e quello il problema vendino vendino non posso ma non può essere poi forza sono io che c'è un suo passo il petto per per me metri già con l'innesso ok ahia non ci sa tantissimo aspetta 1 2 ahia no lag aspetta momento di lag brutto ok perfetto si è all'assalto perfetto ahahah no non sei può mannaggia vabbè fa se vina fisica vangata oh guarda che c'è l'unica spalla spalla attista esperta che mamma mia mamma mia mamma mia ho fatto la pagata l'interno mio beccato uno e ha beccato tutti gli altri per tutti uno vicino all'altro ok no granata bellissima ok grivus grivus buona occhio occhio aiutami aiutami dai che c'è la faccia dai che c'è la faccia bellissima bella bella aiutami tu ora aiutami tu scatto dove ah il droide è cacareppa oddio quanta brutta gente c'è quella sopra dai è morto eh da solo non ce la faccio purtroppo non c'è supporto ahahah come è morto il droide ahahahahah il droide è morto bellissimo ahahah oddio ho riso ho riso ho riso appena fa fa come il carro armato che ammazza il cecchino sotto il lion loco video ho riportato il cannoncino con il boom il cacchino e si fuola e via grandissimo perché c'è quella specie di capannina rossa sul c e ci ci campiano i cecchini dentro non basta spararci dentro e becchi sempre qualcuno il cannone da serio e via guarda sto dartmoor che si becca un sacco di cannonate ehi, ehi, chi mi spara così? oh, t'ammazzo la famiglia eccomi, guarda come sono bello bravo qualcuno mi sta danneggiando nessuno mi sta danneggiando ma chi ti sta danneggiando? raccomandati a tuo padre, il poseidone dai comunque tutto c'è ragazzi abbiamo sottanto un posto no, 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 di nuovo troppo bello perché vedi il cecchino che sbuca dalla finestrella quel periodo adesso sparano da tt e non se ne accorgerà mai e poi quei tiboti giri con il cannone gigante ciao ahio è delica sto sparando un cecchino lassù, stai attento ehi, caro armato, caro armato eh però l'avevo visto però si qua, fatti sotto va guardalo, 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 fu i corpi io lo vedo esploso, non so perché guardalo, guardalo, guarda com'è furioso, grigio, rex, guardalo, guardalo non dietro, non dietro, non dietro, non dietro la marcia, mori cioè, cadi giù ah, cado giù eh, c'era eh no, stavi cadendo giù, questa volita mi voleva investire ah ok, credevo fosse un ordine del tipo, casi giù no, non c'è, mi si sparta ma che se a me si sparta eh, mo c'è vuol dire, ma perché se uno ti dice buttati ti butti, scusi no, magari c'è qualcosa di brutto e ti butti, scusi no, magari c'è qualcosa di brutto e ti dice qualcosa di brutto e ti dice qualcosa di brutto cosa di brutto e via, mi dico è come nell'episodio quello quando attaccano Gionosis no, che prendono Rex e lo buttano giù dal muro e poi Rex dice la prossima volta dimmi di saltare come direbbe come direbbe Rex eh, Rex il capitano Rex nel film del 2005 purtroppo siamo più numerosi numerosi almeno no, no, per 2008 no ma ma che cosa state combinando? vi state accoppiando vi state accoppiando vi state accoppiando ma vi state accoppiando ma ma non siamo nella scienza brutta di barba oscura ti prego era un accoppiamento tra caso di sebertani che cosa brutta e poi nascerà un carro armato mi sento mi sento violato mi sento violato mi sono sentito violato ti sei sentito come il panda quando non riesce vabbè hai visto i i cosi ti giuro che fa troppo dire non lo vedo ma non c'è più per aiutare gli amici mi stavo divertendo morto malissimo ma come era nascosto ah erano due ecco perché non capì qui si separatistica cacchotto ecco lo caro armato che volevo ah guardati qua ti vedo male ti vedo male ti vedo malissimo ah ma cacchio perché c'è l'amico porca eh beh sono erano due contro uno eh 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 troppo facile sai quella cosa troppo facile vuoi vincere facile pom 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 ma sai perché? perché ho da fare l'obiettivo ma no ma sei il nostro primo giocatore come è possibile non mi sono morso di qua ma stai mangiando 3.000 kg e kill del cavolo non mi sorprende dunque io sono subito dietro di te quindi vedi che stiamo di te io sono tredicesimo io sono tredicesimo no 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 io sono tredicesimo sono gesù senti io sono gesù ho il W che non funziona quindi io non posso muovermi in avanti sto cercando disperatamente di cambiare tasti ci hanno conquistato Ek c'è lo zampino dei carri armati ma non c'è Ek di qua salve caro armato ok 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 non fai più gradasso adesso beccate questo va bene intanto usiamo qualcuno altro dai ma che falle morto? eh vabbè mi sono sentito molto appagato molto fiori molto fiori oh finalmente un poco appagato molto molto cari sherman fiori un po' appagato ma come è che ci sono dei droidi qua? io non li capisco come fa un'asta dei droidi originale alla TTE ma è stato distrutto a TTE no sono ancora di virgo e come che davanti a te ci sono i mici e non li vengono scusa ah perchè sto segnali i tasti adesso troppo impegnato ok perfetto no ma anche il prodotto ma lo possono muovere la Tic chi è muovo di tipo noi mi avevo le ultime che la interala eccetera io sì io lino e lo so nel sud il tuo muovo questo errore è fatente ricordati che sei una macchina grossa di vista più a te e allora la fatente per ilهم con le armi se vuoi che conti ma ovvio tu c'è scusa ok raga vi ho ucciso Dukku io sono mica finito ok vi ho ucciso anche Darth Maul dai che piglio la rampa dai che piglio la rampa dai che piglio la rampa morca di una miseria ti ho ucciso un altro cecchino sai qualche problema sai che ti stai ti sta ingrappando la spia da lì via 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 no finalmente ho cambiato i tasti non mi va di andare poi su youporn scusi oggi è un po' chitatone trolleca un po' accoppiamenti di serie bella madonna quanto sono stato cattivo ho ucciso 555562546 ahahah hai fatto bene perchè aveva un ministro era il trolleca ma c'è stata una conquista ma come c'è nessuno ma sparano indietro l'idea beccate questo una bella mutata del mio canale hai già sparato super troppo jet troppo si così livello di brutto caramba no ma dai ma io vado su non è che si mi conquista allora si confami libero no 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 c'è un bravo c'è un gribus da dragon ball che sono fatti uno degli attacchi col teletrasporto un dragon ball un dragon ball gribus un dragon ball gribus e racconti c'è un chiun chino iaccatore bastardo comunque c'è una moto che poi vedete la persona il commando però è brutto che non ha la visiera, quella è la bella del gioco persone visiera conti ho sentito l'urlo conti ho sentito l'urlo del clone c'è un problema il problema sono droideca, jet trooper, un po' di gente un jet pack trooper comunque ragazzi un clone davanti a me ha urlato proprio come nel film come il stone trooper che cade l'urlo del villain ogni volta lo fanno a caso è bellissimo no ma è stato bellissimo comunque c'è un conti sostegno con lo gettatore gettatore a ore 9 vuoi venire a patti con lui con il con il carro armato atto vuoi patteggiare ahi vieni fatti spettatore duku stai mi piacciono gli staff che mi vengono contro e che ci credono fino all'ultimo momento prima di tre pari mi piacciono proprio ci credono proprio particolarmente ma il duku con tipo 3 di vita viene contro di me perché? perchè ti vuole bene perché sa che che combattere può vincere che non muore male occhio tu dove ti trovi? in alto è sempre qua oh va è molto male è stato bellissimo è venuto contro di me con pochissima vita ok quindi io riusciamo a sfondare stavolta ok i droidi che ne muoiono quando dovrebbero morire bravo dai ti fa lo pezzo dai bravo questo ci chiama gioco di qua unità corazzate che ti portano a fare tutto sono nato adesso provo a andare ho fatto lo capito ma dopo che so il caso di me il gruppo anche so a me scusi a a un altro e non sei guidare non sei un pilota no in realtà sono un pilota ma non mi trattavo muoio ma mi trattavo che hanno nato ma stu ma stu che ci sono l'olore lo l'olore il giaccio poiché ma tu sei chiamato superato e noi aiuto aiuto ah! c'era pone esci 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 scappa scappa ma pura scopi poter morire C'è un brutto droide, vedo droide brutti, aia! I maicri del fase 1 credo che fa? Che scopa per terra con una scopa! Spasto di terreno! Aia, di lato! Ci stanno attaccando ai lati! Ma alla fine l'hanno avuta mica loro i bastardi! Eh si! Sto pegando a Waker Nonostante la nostra superiorità delle unità corazzate No, Dio che bello! La cannonera nemica sottotiro, voglio vedere se riesco a... Si... Eh però poi puoi tirarvi un po' sopra e vedrai dei danni che faccio E vedrai dei danni che faccio Ma sta dentro alla faccia Non so neanche dove devo andare, Alice E poi è libero, no, è libero un cavolo, non tirarlo, non tirarlo Ah, e che è che la squadra dai lati, ma andai Ma tu dovevi vedere quel clone che mi è passato davanti mentre stavo sparando No, 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 io ero dietro di te Delta, ero dietro di te, sono troppo vendicato Ma hai visto che lui mi è passato davanti il clone e non sono riuscito a sparare? Si può sparare e poi ci faccio davanti è morto il clone Eh appunto, mi ha proprio superato e il tipo faccio fu... E vi ricordate la scena del clone quando spara? Noi gli funziona il blaster e vede il fu... il braccio del super droid Mmm, va bene, puh Ah? Si si, quello per quinta ti sia una saggia idea a tirare un bonus pro della battaglia Si No, no, pensa che ti fai male, tipo quelli che... Sì, ho preso Anakin Raga ce l'ho fatta Hai preso Anakin? Eh si Eh la madonna E' la mia serata questa, dove sei? Eh Rex sta decidendo con cosa spawnare No, ho sbelto questo No, tu Delta sei della 501esima No Rex prendi anche tu della 501esima E' la 501esima che cosa? Ah pesante Pesante, ah ok Però aspetta che devo scegliere la skin Eh si lo so, lo so, dillo di nuovo Eh aspetta c'è un problema, riesco a... Oh che bello, prima fase 2, incontratevi per la prima volta E' bello, sì E' il numero di me Da Ragazzi c'è un problema, sei buggato il task Ma ci ha bisogno di te il task Soldato? Dovremmo tipo difendere, non esengono E' in. Ecco, 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 eh lo so C'è un po' di conoscolo di brutto Si era pagato un task Ai eh eh nechimi vai Ma abbiamo ammazzato tutto noi L'abbiamo fatto dai Ma ahahah L'abbiamo veramente Mi dirò Ecco Aia Ma star do c'è chi? Che cazzo è stato Tuttato Truite grini Che droide che è stato? perchè c'è anche lo vedo lo vedo griffus c'è solo un'attività in carica nel frattempo si va a stare in una cosa di conflittata dove sei? dove sei? arrivo, sono dietro ai te, sono dietro ai te ah, eh, c'è un altro tipo in culonia come sempre ecco rex controllo gli obiettivi controllo gli obiettivi ahahahahah non voleva mica male perché l'ha ucciso a mezz'aria io io grande è stato un colpo fatto completamente a caso però sapevo che il tracking avrebbe e io dico che da qua io non mi muovo più perché sennò qui come entra uno dentro sono chiuso e va bene però come fa Grim? non ti ne ho avuto il permesso di sono fatti ah no 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 dai dai Luca eh ma cavolo, eh no, sono solo io qua devo non buttarmi, altrimenti muoio e perchè hanno tutti colpi explosivi e mi fanno male anche se ah vedi che hanno conquistato gli spalti in alto eh si hanno live round adesso ecco no ok che non abbiamo fatto hanno chiuso, hanno chiuso hanno chiuso raga avete qualche problema nooo entro entro si 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 ma stanno riaprendo che fu lo rotto vabbè dai io sono ancora Anakin sono rimasto chiuso fuori ma per fortuna non ho riaperto le porte perché ho fatto vedere l'anakin e le porte beh si in generale gliele riapriamo subito ho detto guarda che io sono bravo a strozzare le mogli vuoi che strozza la cosa di moglie? io non ho la moglie non importa te ne faccio avere una e poi te la trozzo poi te la strozzi dobbiamo stare attenti ai due dei dei starle con due dei che è passato è passato non è che l'ho preso quella ecco 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 è spinto di sotto no ero due ma non li spingo ho provato a usare la spinta ma non non subiscono l'effetto no è un droide incursore d'addestramento vedo bianco ma come quello è Grievous è un droide ca bianco se deve morire male deve ca il bianco come l'ho fucilato male ma passato 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 cosa dove qua dietro visto cazzo ho ucciso un altro lupo di me prendo l'arc perchè sennò va non ti viene cazzo una una trappola sul ponte adesso 2 minuti quello qui no dai ucciso ti ho ucciso eh ma malissimo perca miseria io lo sto scansionando così vedo le tue mosse dai dai chiarissimo no non dimmi che sei caduto un altro droide ca serio? sarei un altro droide che sta arrivando ecco è morto ok cosa fai lex? c'è ancora uno lì c'è ancora uno lì tutto tuo vai tutto tuo ecco ecco molto piacere quanti oggi è la giornata dei chi mi scorgi ehi vedi oggi è la giornata dei chi mi scorgi ehi vedi aiai eh va bene esagerate steam madonna che cosa succede a bosca raga bosca oh bellissimo si trova no e gli è accaduto se c'è da 500 mesi ma prendo la stiglia che voglio il cobalto che non è blu bella quella adesso non arrivo scherzi a mani a te l'altro stavo vedendo oggi o ieri non mi ricordo un video di imperio assolutamente bellissimo mi sto sentito come è sempre guardati tutto il droga di casa che cosa stai guardando? scusa che cosa eh ti dico e di cinque imperio assolutamente ha condiviso un video che stava stampando i pezzi dello zaino dell'arc uuuuh eh roba bella roba buona mamma e poi cavo che lo puoi aprire oh guarda il druidecca il druidecca ma com'è che corro così vero dietro i terex visto eh rimanano tini non l'ha tini non impegnato che scapparex scapparex nooo non è quella parte ma tutto il capriole dovevi fare la parte sbagliata non così almeno il suo sacrificio non è stato vano perchè sono riuscito come era quello la che faceva Darth Vader l'avevate visto? non mi ricorda chi era quello su ah era quello che faceva Youtube Puff come si chiamava uno bravo che faceva quei Star Wars e c'era Darth Vader che veniva doppiato da Quendo che faceva tipo la l'annunciatore dei tre oddio nooo c'era tipo la scena di rex sono dietro di te rex sono dietro di te ma l'acqua di merda ma l'acqua di merda occhio raga che c'è duco diceva tipo il pezzo dove c'è Luke che scopre che è suo padre no e adesso diceva Obi-Wan non ti ha mai detto la verità però immaginate con la voce di Quendo no diceva il treno regionale 2-5-1 per non mi ricordo dove ha subito un ritardo di 3 ore diversamente da quanto già annunciato nooo non è vero e poi alla fine diceva e allontanarsi dalla linea gialla e Luke si butta non così tanto ahahah ma che c***o devo recuperarli e te li mando perché sono bellissimi ho fatto qualche gruppo che mi fanno veramente scassare ehi davvero fuoco ma che poi guarda il mio onore sono tutti della 500 unico fa eh sii si ho visto è caduto praticamente è tutto male mi sa che è meglio intanto di tutto ciò tu sei Rex se lo vuoi poi sapere oh davvero? si nooo sono morto mannaggia è stato un droideka? o l'hai ucciso? c'era si è morto oh che bello nessuno l'ho ripreso quindi l'ho ripreso comodo droideka listo ma dai è bellissimo qui adesso lo posso prendere alle spalle fantastico non ho messo il radio di fuoco alto nelle pistole comunque siamo tutti della 500esima si veramente eccetto io che sono il manachin che io sono la 500esima io io sono il pugno di spanner NOOOOO caro mool mool mi ho preso il distante ok ho ripreso l'anachin per la terza volta ma no ma che c***o oh mool 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 ma secondo me perchè nessuno si accorge che io continuo a morire allora sono un po' più impegnato sulla patta sai cosa prendo non prendo no aspetta no ok devo prendere l'uscita perchè c'è un bosch questo si così come modo si la mia trappola ha funzionato ha fatto che le ho visto contro la trappola no c'è il droideka c'è la trappola dell'arche bella bella a me piace da un sacco il droideka che l'ho lanciato lì sotto che spettacolo granate granate aspetta che prendo l'altra sala ma per mettere delle ringhiere qua mannaggia il cavolo non ha paura di fare queste maledette piattaforme la perchè il lag è letale non è tanto si si come lo so creduto prima io madonna guarda che massacro raga madonna abbiamo come ambo ma anche il punto colpito fuori non 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 se l'abbiamo fatta per i punti di indietro ce l'abbiamo fatta se smette di fare danni a notte dico ok il gioco si dimentica di interventore ora non mi senti che mi raccoglie dopo aver preso alla team travolto di fila risultato 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 di non si può dire come dice si ritorniamo all'unità corazzata ok ok, in quattro volte di fila perfetto dove eravamo di maxx ma è bellissima ma guarda se è più velocissimo voglio scrivere questo qua e delta guarda, sono ancora anakin io sono scorci alcuno mi aiuti sua dai scorciare noi andiamo 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 da l'interesse scorci e scorci anakin In particolare HJa dicchiato SS no scorci scorci until Skywalker SS SS senhor blesifica order наши 66 ering Sì. Scorch suggerisce a Skywalker...66. Una pizza! Una pizza! Come è? 66... Sottimarissimi. Aia! Ma guarda come ritaglia la strada quella! Ma c'è pure il Grievous! Ci pensate voi, vero? Bravi! Ma intanto è scappato via! Perchè rotoli sei un cacchio di bot? Mannaggia il cavolo! Guarda questo è un vero giocatore e mica si è messo a rotolare! Anche tu sei un vero giocatore e non ti metti a rotolare! Quando vuoi? Io mica sto rotolando! I bot rotolano ogni volta che provi ad attaccarli! Una buona tattina comunque, io mi sono buttato in mezzo, ho tirato il fuoco e sono quasi morto! C'è un cecchino! Sniper! 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 Oddio, hai volato qualcosa in aria! Aia! Che cacchia è stato! Super droide! Oh! No! Oh! Meme Rider 94 è più superato! Questo non è bene! Ah! Ma adesso! Beh! Perfetto che sembra uno illegale! Sì! Oh! Il Conte Duku! In realtà sei più illegale tu! Lui ha il 134! Eh no! Eh no! Ma sarà illegale intendo il metodo di gioco! Io vado a prendere queste due! Ecco! Mando aiutatemi contro... Eh bavo scorcio! Scorcio mimetico aiutami contro Duku! Oh! Ah! 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 Ancora a un po' sarà un supporto a un compagno se puoi! il carrizzo il libro il tutto il mio spavolto di stoma stefano io posso foto 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 o la team no c'è un bel altro la tt è? si ah ok buono si io ho ucciso tu mentre volavo ma che cosa su questi desk ragazzi se qualcuno vuole andare a prendere B non è un ottimo eh io sono un attimo preso male con la tua vita eh dai leila mi metti lo scudo e mi ridai la vita no io me devo fare con la un po' di kill devo fare tanto nella tua mod non è scorcio leila si appunto e allora prendi scorcio e dammi lo scudo esatto e curami no perchè adesso sono un soldato e non ho punte per fare scudo no no star killer ammazzato no si uno scudo quello che questo non lo dava è che bello un vero attt è? aspetta che devo cavalcarlo no tu vuoi fare i punti? così guardavi chi sparare nota mira sopra le pile a combustibile esatto oddio Krivus dai che mira di merda aspetta non riesco più a uscire oddio sono bloccato qua aiuta no veramente delta prova a muoverla eh si prova ad andare avanti non riesco non sono bloccato ok grazie ma il generale Anakinsuke Walker roidi ma dio ma dio bella ma ma che cia ah ora capisco perché ti divertivi eh guarda quanti quanti punti in più ha fatto quel tizio rispetto a me vabbè ma ha preso un avio soldato uno di quei tizi che giocano solo per fare punti è perché tu non fai la stessa cosa no io gioco per divertirmi e poi se eventualmente questo comporta punti allora va bene però non è il mio obiettivo principale ragazzi ho circondato a droidi qualcuno che sa cosa fare distrugge tutto in questo caso ci stava Anakinsuke 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 il classico B1 Anakinsuke Anakinsuke il dubbio ma io ho un dubbio aiuto aiuto Anakinsuke circondato aaaah ecco stupidu Anakinsuke ma dai li ho fatto non mi parte non mi parte il castigo ecco mi sei rotto il tasto 2 aspetta che devo salto giù dalla oddio ATTA dove sei sento da avere un po' di posti di comando nooo mi ha ucciso Dragon Ball Grievous con l'attacco Dragon Ball vabbè ma io riprendo Anakins per la quinta volta e ormai ormai rex ho l'abbonamento però ormai rex ho l'abbonamento però ormai rex ho l'abbonamento però che palla nooo non ce la facciamo proprio io faccio un po' di tiro guarda che c'è il tribolo madonna che è successo non immagini cosa ho appena visto raga non vuol dire che che scappa via nooo ho visto i... le navi a trasporto è presente si sono incrociate e sono sguandute fra di lo nooo siiii l'ho visto raga non sono pazzo l'ho visto ho filmato tutto ma secondo te se mi imbarco se mi imbarco come Anakin sulla canoniera droide poi finisco direttamente dentro il Renator e non devo riprenderlo non credo non credo mi appoggio con la manina con la mano mecca nooo Uaaah madonna abbiamo ucciso un altro... un... un contro... un... una... 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 ahia ho calpestato qualcuno a casa guarda vedi mi metto con Anakin qua sopra e vevevevevevevevevevevevevevevolerò via esatto no è sparito il mio Anakin ero proprio sopra quella canoniera dai prossima ronda bravo al soltare